Incidente mortale questa mattina poco dopo le 11.30 lungo la corsia nord dell'A14 in direzione Bologna nel tratto tra Pesaro e Cattolica all'altezza di Gradara. A perdere la vita Berloni Alessandro di 37 anni residente a Pesaro. Le esatte dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia autostradale della sottostazione di Fano intervenuta sul luogo con diverse unità. Berloni era a bordo della sua Audi A3 quando per cause ancora ignote ha violentemente tamponato un autocarro telonato che lo precedeva di San Marino con a bordo due residenti della Repubblica del Titano il quale per il violento impatto ha effettuato un testa coda fermandosi a centro della carregiata in senso opposto a quello di marcia. L'auto con a bordo il 37enne pesarese invece ha proseguito la sua corsa per altri 750 metri fermandosi sulla sinistra contro il New Jersey. L'uomo è morto sul colpo. I due occupanti dell'autocarro hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso di Pesaro ma sono stati dimessi in giornata. Sul luogo dell'incidente oltre all'autostradale anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Pesaro, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione del settimo tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. La circolazione è stata ridotta su due corsie per un'ora e mezza circa con formazione di code di oltre tre chilometri.